Le nuvole, realtà del territorio che si occupa del tempo libero e dello sport di ragazzi diversamente abili, recentemente è stata da Papa Francesco per quale motivo? Siamo stati da Papa Francesco perché noi siamo una realtà che si occupa di cheerleading, cioè acrobatica con ragazzi disabili e siamo stati selezionati insieme ad altre tre associazioni sportive a rappresentare la FIZ, la Federazione Italiana Danza Sportiva del Piemonte. Che emozione è stata? Ballare, incontrare Papa Francesco, ballare per lui? È stata una grandissima emozione quando un mese fa ci hanno avvisato di questa cosa, non ci potevamo credere perché era una cosa talmente grossa e noi ci sentiamo talmente piccoli come realtà della zona del Cunese che per noi era veramente una cosa impossibile e in realtà invece ci siamo stati ed è stata un'emozione enorme perché abbiamo incontrato Papa Francesco, oltre che ballare per lui, siamo riusciti anche a donargli uno del nostro libro che abbiamo scritto durante il lockdown con i ragazzi e a stringergli le mani ed è stata un'emozione enorme. Allora, l'incontro del Papa è stata un'emozione fortissima, veramente bella, un incontro veramente eccezionale, davvero formidabile comunque, è stata una bella esperienza. Anche facendo anche il nostro balletto è stato veramente molto bello comunque. Sì, bello. Cosa significa per te ballare? Ballare è divertente, piace anche altri sport, c'è il leader, ballo di pop e tanti altri sport. Oltre alla soddisfazione di aver incontrato Papa Francesco, un altro riconoscimento che vi è arrivato dal Consiglio Comunale di Savigliano? Sì, siamo molto contenti che comunque i ragazzi che abbiamo di Savigliano, perché noi siamo su diversi comuni, quelli di Savigliano sono stati premiati dal Comune, è stata una cosa che meritano veramente, perché si impegnano tantissimo con anche tutti gli altri comuni. Per quale motivo siete stati premiati? Siamo stati premiati perché abbiamo fatto diverse gare, come è stato elencato dal Sindaco, a livello nazionale a Dancona e a livello regionale e interregionale a Torino, a Dancona per il cheerleading e invece a Torino per i pop e show dance, dove si sono esibiti in entrambe le discipline.